Ciao, mi chiamo Massimo, ho 34 anni e sono di Massa Carrara, precisamente di Marina di Massa e nella vita faccio il performer. E come è iniziata questa storia? Beh, la storia è iniziata diverso tempo fa. A 26 anni, 25, vidi una bando di percussionisti, una street band per la strada a Pisa durante la Notte Bianca e durante la Luminara e dissi, ma quasi quasi queste vibrazioni mi piacciono forti, proviamo a vedere come funziona questo mondo. Poco dopo, proprio poco dopo, iniziamo a fare il carnevale di Pietra Santa e c'erano dei ragazzi del carro di cui facciamo parte che iniziarono, si stavano costruendo dei trampoli. E allora dissi, boh, io ho sempre sofferto di vertigini, perché la mia mamma mi raccontava sempre, ma sempre, ma poi lo percepivo, che quante volte che mi metteva sulla sedia per cambiarmi, io avevo paura perché vedevo di sotto e mi dava noia le vertigini e stavo proprio male. Allora dissi, boh, per vincere anche questa cosa, la cosa che veramente mi recava più paura, vado a fare il trampoliere. E da lì poi, per perfezionarmi, per imparare bene l'arte dei trampoli, conobbi la scuola del teatro dei venti di Modena e iniziai un percorso di workshop in alcuni fini di settimana con loro che mi aiutarono, insomma, a migliorare, a vincere di più la paura e a camminare veramente molto bene con i trampoli e diventare veramente un trampoliere professionista. Non sapendo cosa fare sui trampoli, avevo immaginato di fare il bastone infuocato e conobbi un ragazzo in quel momento che voleva imparare con i trampoli, quindi ci fu uno scambio culturale, uno scambio di arti tra l'insegnare i trampoli a lui e lui insegnò il fuoco a me. E anche lì la prima volta mi ricordo che provare a mettere una bacchetta in bocca, una bacchetta infuocata, fu una cosa allucinata. Dovetti stare dieci minuti minimo con questa bacchetta in mano, non riuscivo a metterla in bocca, quando poi finalmente, po, di va, chi se ne frega, provo, se mi brucio, brucio. E si creò questa relazione che sta finita con il fuoco che c'è tuttora e da quel momento iniziai a fare il trampoliere e il mangio a fuoco. Giocoleria infuocata, tutto quello che concerne il fuoco e la giocoleria infuocata, e quindi iniziamo a lavorare. Poi devo dire che sono sempre stato un grande sostenitore, un grande nerd, un grande appassionato di manga, in particolar modo di Dragon Ball, e quindi, in primo luogo, la giocoleria che mi colpì tanto fu la giocoleria con il contact juggling, ovvero le storie di Cristal. Da lì iniziai il mio percorso come performer di contact juggling. Poi quando sei un giocoliere, quando sei un mangio a fuoco, praticamente inizia a fare di tutto. E quindi il mio nome d'arte è diventato Massimo Pugno di Fuoco, come uno dei più grandi protagonisti del manga One Piece, dove Spugno di Fuoco è un grande personaggio, molto importante. Questo tipo di lavoro mi ha cambiato molto, ho cambiato la mia relazione con gli altri, la mia relazione con il mondo, la mia relazione con me stesso. Credo che mi abbia cambiato meglio, mi abbia aperto la mente rispetto a tantissime cose. Niente, una delle frasi più belle che insomma mi è rimasta impressa, che mi disse il mio babbo, ancora prima di sapere che sarei arrivato a fare tutto questo, è che la vita è come un circo. E quindi per tanti punti di vista bisogna prenderla un po' leggera e un po' con divertimento. Ciao!